Sarà Vanessa Scalera ad aprire la nuova stagione del teatro comunale di Mesagne e per l'attrice che sta vivendo uno straordinario momento di carriera, grazie anche ai successi televisivi, sarà un ritorno a casa perché proprio a Mesagne è nata e dalla vicina a Latiano ha poi spiccato il volo verso una carriera meravigliosa. Lei è una nostra concittadina che è innamorata di questo territorio e che in ogni occasione rimarca questo suo senso di appartenenza e credo che ci abbia anche aiutato affinché potesse realizzarsi una data qui a Mesagne. Vanessa Scalera ormai è un'artista di primo livello e quindi non è neanche così semplice avere l'opportunità di inserire uno suo spettacolo all'interno della programmazione e siamo felici che una figlia di questa terra brava, bravissima, possa poi esprimersi con la sua arte preferita perché lei è un'attrice di teatro qui nella sua città natale. Vanessa Scalera sarà in scena il 13 gennaio con lo spettacolo La sorella migliore scritto dal suo compagno Filippo Gili. Seguiranno altri sette appuntamenti di qualità tra cui quelli con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabbassi, Salvatore Cosentino e Corrado Denuzzo con Maria Di Biase. Il cartellone è stato presentato dal sindaco Tony Matarrelli con Marco Calò, consulente comunale alla cultura e Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese, che ha collaborato anche quest'anno alla realizzazione del cartellone. Una stagione di prosa che siamo riusciti a programmare grazie al solido contributo del Teatro Pubblico Pugliese e che è composta da otto eventi, uno in più rispetto all'anno scorso.